Andiamo sindaco, lo scuro di Montevago, colonel Emane, la città di Tantà. Montevago ha premiato se stesso perché oggi vince la comunità. La nostra lista era per Montevago, i montevaghesi lo hanno capito e hanno dato risposta perché hanno inteso benissimo qual è stato il progetto politico che abbiamo proposto alla città. Siamo in vantaggio di oltre 200 voti, questo credo che sia un risultato di tutta la comunità, quindi non viene premiata il sindaco La Rocca, io con loro, ma siamo una squadra ed è stata premiata la squadra. Intanto in continuità completeremo i lavori che abbiamo avviato, quindi dall'affidamento della città dei ragazzi alle tre scuole per cui i lavori sono già partiti, finire la chiesa madre, avere dal governo regionale entro tre mesi il milione e 400 mila euro che abbiamo chiesto, questo per quanto riguarda il lavoro, il processo infrastrutturale. E poi ci sarà il programma che dobbiamo attuare, quindi abbiamo tante cose da fare, la squadra è bellissima, sono contenta perché in questo momento accanto a me c'è il vice sindaco, finora ha designato oggi il vice sindaco Vincenzo Ilfranco, con cui abbiamo fatto una bellissima campagna elettorale, è stata una campagna elettorale all'insegna dei contenuti, abbiamo avuto una squadra a supporto fantastica, ma quello che c'è oggi qua è la dimostrazione che la città è stata con noi, perché i risultati sono risultati per noi inimmaginabili, quindi superiamo, sforiamo i 200 voti di scarto e quindi questo credo che sia un successo di tutta la comunità.